Wow, questa è la prima serata del nostro Danzorama, siamo quasi alla fine del nostro Toga Party e vedrai ci sono persone da tutto il mondo che sono a divertirsi a Roma in una serata come non avrei mai immaginato abbiamo visto dei gladiatori, abbiamo visto delle sfide, abbiamo visto il dessert presentato con le torce abbiamo visto il presidente dell'Arthur Murray che è arrivato su una carrozza con i cavalli, ma proprio i cavalli è arrivato così poi Augusto e Brigitta che sono arrivati portati da una portantina, da gladiatori, da romani è stata una serata veramente incredibile, c'è musica dal vivo, c'è gente da tutto il mondo, è stato veramente qualcosa di inatteso poi Brigitta ha fatto un gioco in cui due copie di maestri si sfidavano per vincere e hanno messo la musica di Ghost, hanno messo la musica di Titanic, c'era la gente che si spellincava dalle risate è stato fantastico, veramente ora io ti lascio perché vado ora a ballare, ancora resta un po' di questa serata e ce la vogliamo godere veramente tutta quindi un abbraccione, guarda un po' le foto seguici e vedi che cosa sta capitando a Roma siamo nel ciao amore danzo rama ciao